Radio Radicale, siamo con l'On. Irene Manzi del Partito Democratico per parlare con lei della scomparsa di Barbara Balzerani, che è stata una terrorista delle Brigate Rosse. Dopo la sua scomparsa c'è stata una docente universitaria che ha fatto un tweet dove ha citato i metodi rivoluzionari di Barbara Balzerani dicendo che la mia rivoluzione è anche la tua, però facendo anche un distinguo. Poi il tweet è sparito, però la polemica è rimasta. Allora, come ha trovato questa polemica e le parole della docente universitaria? Io penso che le parole siano importanti, come diceva, ricordava anche Nanni Moretti, e quindi non possono essere usate a caso o in modo inappropriato. Quella che era la battaglia di Barbara Balzerani non può essere considerata una battaglia condivisibile o in qualche modo accettabile da nessuno, tanto più appunto da una persona che è docente in una università, che ha un ruolo anche, insomma, una notorietà in questo senso pubblica. Penso che siano parole molto gravi che sono state giustamente stigmatizzate, a cominciare appunto dalla rettrice dell'università di cui fa parte la professoressa... La Sapienza. La Sapienza, esatto. La professoressa Polimeni che ha giustamente appunto stigmatizzato. Sono parole in cui non è possibile riconoscersi, in cui appunto il terrorismo è stata una pagina tragica del nostro paese, che ha prodotto vittime, lutti, tragedie. Quindi quella non era una rivoluzione, era una guerra dichiarata contro le istituzioni dello Stato, e quindi come tale non accettabile. Questa polemica l'ha indotta a riflettere sul consenso che hanno avuto, sul modo con cui un certo ambiente culturale ha guardato al terrorismo nel nostro paese. Parlo del terrorismo di sinistra. Il terrorismo è stata appunto quella pagina, quegli anni, quei decenni, terrorismo rosso e terrorismo nero, perché ci sono fatti molto tragici che hanno toccato appunto il nostro paese, prodotti da questo. Penso che non ci debba essere nessun tipo di indulgenza. Ci sono stati dei processi, chi, insomma, i protagonisti di quegli anni... Sì, sì, ma io non parlavo di indulgenza, parlavo del fatto che, diciamo, in alcuni ambienti culturali queste cose sono state guardate con un favorevole silenzio. Ecco, diciamo questa... Diciamo che la mia opinione, io avevo un anno quando fu rapito o moro, quindi non ho vissuto direttamente, per motivi anagrafici, quella stagione, ma non condivido atteggiamenti di indulgenza o compiaciuti in qualche modo verso chi si è reso protagonista, i fatti di sangue drammatici e tragici dai più noti in questo senso a tante altre rappresentanti delle istituzioni, della stampa, delle forze dell'ordine che hanno pagato con la propria vita appunto una battaglia che era stata dichiarata contro le istituzioni democratiche dello Stato. Che cosa pensa, diciamo, di quei terroristi che non si sono mai pentiti, che non si sono, diciamo, mai ravveduti per quello che hanno fatto? Anche se poi la Balzerani dichiarò finita la lotta armata nel 1985 con Curcio e Moretti. Allora, ritiene che dovrebbero essere ancora in carcere oppure il fatto che molti di loro sono fuori dal carcere è stato giusto? Io penso che a loro si è applicata quella che è la legislazione del Paese che si applica appunto a ogni condannato e quindi come tale hanno pagato il loro debito con la giustizia. È chiaro, quello che si chiede è che appunto non si sia troppo compiaciuti anche di cosa si è prodotto, cosa si è fatto. Io penso che la giustizia italiana, dove appunto ha potuto farlo, ha fatto il suo corso. L'ultima cosa, ritiene che, diciamo, in qualche caso ha avuto mai l'impressione che queste persone venissero trattate da, in qualche modo, da eroi? Leggendo qualche cosa. Rispetto alla mia visione personale, insomma, quello non ho visto appunto da parte... Ma lei non ha visto? ...della generalità dell'opinione pubblica, dall'opinione pubblica comune appunto un trattamento di favore per certi versi. Quello che è importante è che sia conosciuto anche dalle generazioni più giovani quanto è avvenuto in quegli anni, perché penso che sarebbe un processo di consapevolezza sano rispetto alla nostra storia, anche rispetto appunto a commenti come quello di ieri o rispetto a atteggiamenti magari più indulgenti rispetto a quei fatti. La conoscenza sarebbe il modo migliore appunto per contrapporsi a questo. Bene, grazie a Irene Mandli e al Partito Democratico.